Il tritolo Il meningococco di tipo B, quello della 27enne che vive a Prato, colpita da meningite, resta in terapia intensiva. Carcere e visita della deputata Mazzetti, maggiore attenzione per Prato, ma no ad allarmismi. Negozi in centro, anche le grandi catene soffrono, chiudono Casanova e Upim. Una buona serata dalla nostra redazione. Bentrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. Il procuratore capo di Prato, Luca Tescaroli, insediatosi poche settimane fa, ha ricevuto una lettera minatoria nel suo nuovo ufficio al Palazzo di Giustizia. Ti faremo saltare con il tritolo, il messaggio riportato nella missiva. Il magistrato ha a lungo indagato sulle stragi di mafia e sui presunti mandanti occulti. Una lettera con minacce di morte è stata recapitata al magistrato Luca Tescaroli, da poche settimane procuratore capo di Prato, che per anni da pubblico ministero ha indagato sulle stragi mafiose del 1993 e sui presunti mandanti occulti degli attentati. A darne notizia il quotidiano La Repubblica, spiegando che la lettera è stata recapitata il 29 luglio nel nuovo ufficio di Tescaroli a Prato. Ti faremo saltare con il tritolo, finiremo quello che abbiamo iniziato. È quanto sarebbe stato scritto col computer su un foglio senza firme, poi imbustato e spedito il 18 luglio da Firenze, come si deduce dal timbro postale. Il fatto è stato segnalato alla magistratura di Genova che un anno fa, a giugno 2023, aveva già aperto un fascicolo a carico di ignoti per minaccia grave e violenza pubblico ufficiale, dopo il ritrovamento di un pacco sospetto davanti alla casa Firenze di Tescaroli, allora procuratore è aggiunto nel capoluogo toscano. Appresa la notizia delle minacce al procuratore di Prato, la sindaca Ilaria Bugetti, a nome di tutta la giunta comunale, ha espresso solidarietà e vicinanza a Tescaroli, condannando fermamente questi episodi inquietanti e gravissimi. Le istituzioni pubbliche devono far quadrato attorno ai rappresentanti dello Stato che ogni giorno sono in prima linea per combattere la mafia e i comportamenti mafiosi in ogni loro manifestazione, ha detto Bugetti. Siamo al fianco del dottor Tescaroli e di chi, come lui, combatte ogni giorno per estirpare la criminalità organizzata. Il messaggio deve essere chiaro, Tescaroli non è e non sarà mai lasciato solo, ha concluso Bugetti. Dopo il primo intervento della sindaca Bugetti, numerosi e unanimi sono stati messaggi di solidarietà e di vicinanza al procuratore Tescaroli, bersaglio delle intimidazioni di cui abbiamo appunto appena parlato. Numerosi gli attestati di solidarietà e di vicinanza espressi al procuratore capo Luca Tescaroli, fatto bersaglio di minacce di morte con una lettera anonima recapitatagli nel suo ufficio al Palazzo di Giustizia Pratese. La giunta esecutiva toscana dell'Associazione Nazionale Magistrati si è stretta al collega Tescaroli nella certezza che alla vile intimidazione di stampo mafioso saprà rispondere, come in occasione di precedenti, indebite, pressioni e strumentali censure, con serena determinazione, senso del dovere e responsabilità istituzionale. Unanime la reazione delle istituzioni e delle forze politiche, dopo la sindaca Bugetti sono intervenuti il presidente della regione toscana Eugenio Gianni e l'assessore alla legalità Stefano Cioffo, i quali hanno ribadito che in Toscana non c'è e non ci sarà mai spazio per chi tenta di imporre un sistema basato sul ricatto e la violenza. La sua battaglia per la legalità è anche la nostra, ha detto Gianni, riferendosi a Tescaroli. La giustizia sia una delle tre colonne portanti della Repubblica, i tre poteri siano sempre indipendenti e complementari per il bene del Paese, lo afferma il sottosegretario agli esteri, Giorgio Silli, che esprime solidarietà a Tescaroli e a qualsiasi altro servitore dello Stato che riceva minacce durante l'espletamento del proprio incarico. Messaggi di vicinanza sono giunti anche dai deputati pratesi. Non lasceremo mai che qualsiasi forma di minaccia impedisca alle istituzioni tutte di difendere i valori dello Stato, ha detto la parlamentare di Fratelli d'Italia, Chiara Laporta. Erika Mazzetti riferisce di aver avuto l'occasione di incontrare il nuovo procuratore Tescaroli pochi giorni fa. Condivido i suoi obiettivi e apprezzo il suo impegno. C'è un importante lavoro da fare contro le infiltrazioni mafiose in Toscana che sono diventate un problema serio. Andiamo avanti, afferma la parlamentare di Forza Italia. Di gesto barbaro e irricevibile parla il deputato e membro della segreteria nazionale del Partito Democratico, Marco Furfaro, che si augura che i responsabili vengano presto individuati e perseguiti. Anche le forze politiche e cittadine prendono posizione. Secondo i consiglieri della lista civica Gianni Cenni, sindaco, è inaccettabile che il procuratore Tescaroli, che ha indagato sui mandanti occulti delle strage mafiose degli anni 90, debba subire minacce che richiamano tragicamente quelle terribili vicende. I consiglieri invitano tutta la cittadinanza ad unirsi in un fronte comune di solidarietà e sostegno al procuratore Tescaroli. L'ite con accoltellamento al pronto soccorso di Prato è accaduto la scorsa notte nella sala d'aspetto dell'ospedale Santo Stefano, dove un giovane italiano di 25 anni è arrivato ubriaco. Il 25enne si trovava appunto in sala d'attesa dove sembra che volesse rifiutare il trattamento sanitario, quando per cause ancora da accertare si è messo a litigare con un giovane marocchino. Quest'ultimo ha estratto un coltello colpendo il 25enne al collo e alla natica. Il giovane italiano è stato immediatamente soccorso e non sarebbe in pericolo di vita, mentre il marocchino, inizialmente bloccato dalle guardie di Securitalia, è stato poi consegnato ai carabinieri giunti sul posto. Torniamo adesso ad occuparci della 27enne che vive a Prato colpita da meningite. Si tratta del meningococco di tipo B. La giovane non era vaccinata. Resta ricoverata in terapia intensiva e in prognosi riservata la ragazza di 27 anni che abita a Prato colpita da meningite e da meningococco. Il caso è stato notificato ieri dall'ASL Toscana Centro. È stata eseguita la tipizzazione, il ceppo coinvolto è il B, lo stesso del ragazzo di 28 anni di Firenze, caso reso noto sabato scorso e con il quale la paziente pratese non ha correlazione. La 27enne non è risultata vaccinata. Pur rimanendo ricoverata, il suo quadro clinico rimane al momento stabile. L'ASL Toscana Centro sta continuando ad eseguire la profilassi dei contatti stretti. Nel corso dell'inchiesta è emerso tra l'altro che la 27enne aveva effettuato nei giorni scorsi un viaggio fuori regione. Pertanto è stata informata la ASL di riferimento territoriale per i provvedimenti di competenza. La meningite meningococcica colpisce prevalentemente i bambini piccoli, gli adolescenti e giovani adulti e può causare situazioni cliniche gravi. La vaccinazione è il mezzo più efficace per contrastare la diffusione dell'infezione e prevenire la malattia perché crea anticorpi che proteggono l'organismo. Esistono 12 gruppi di meningococchi di cui 5, A, B, C, Y, W, W, 135 sono responsabili della malattia meningococcica e invasiva. Tra questi il principale responsabile della malattia meningococcica in Italia è rappresentato proprio dal serogruppo di tipo B. In Toscana la vaccinazione contro il meningococco di tipo B è stata introdotta gratuitamente a partire dai nati del 2014 e ai soggetti a rischio. Gli altri concittadini possono averla con una compartecipazione alla spesa. Visita della parlamentare di Forza Italia Erika Mazzetti al carcere della Dogaia dove il 27 luglio si è suicidato un detenuto. Mazzetti chiede maggiore attenzione per Prato invitando a non fare allarmismi. Sentiamo. Chiederò al governo un'attenzione maggiore per il carcere di Prato fermo restando che per le risorse attualmente stanziate la situazione non affatto emergenziale. È quanto affermato da Erika Mazzetti deputata di Forza Italia che stamani ha visitato il carcere della Dogaia dove lo ricordiamo lo scorso fine settimana un detenuto si è suicidato. Si tratta del secondo caso dall'inizio dell'anno. La visita di Mazzetti rientra nell'ambito dell'iniziativa è stata in carcere promossa da Forza Italia radicali. Tra le criticità rilevate da Mazzetti la carenza di personale ma anche la necessità di incentivare l'occupazione dei detenuti. La situazione è molto meglio di quello che all'esterno viene rappresentata. Io ho fatto un giro molto ampio all'interno di tutte le due parti sia bassi, medio e alte intensità ma anche la parte infemeristica e tutta la parte sociale e culturale che c'è all'interno. È una struttura che è stata tenuta molto bene negli anni. Certo è che ci sarebbe ancora di più da fare come in tutte le cose. Le celle sono tenute abbastanza bene, manca una parte, secondo me è fondamentale ma da parte del governo già c'è uno stanziamento anche per questo affinché all'interno della cella oltre al bagno ci sia anche la doccia e poi c'è tutta una parte che andrebbe dal mio punto di vista ma concordato anche con il direttore da incentivare che è tutta quella parte per occupare le tenute perché possono stare meglio all'interno. Dal punto di vista igienico-sanitario non ho trovato nessun tipo di criticità ma sicuramente c'è necessità di risorse economiche sicuramente ma anche soprattutto di risorse di persone, soprattutto ufficiali e sotto ufficiali che mancano qua. Ecco io credo che un'attenzione maggiore e da parte di Forza Italia c'è dal nazionale fino ad arrivare al locale in queste strutture è fondamentale. Sono stati colti con le mani nel sacco nel vero senso della parola mentre caricavano su un veicolo, 350 kg di scarti tessili pronti per essere abbandonati abusivamente sul territorio. Alcuni giorni fa una pattuglia dell'unità operativa di polizia ambientale ha intercettato nella zona di Galceti uno dei mezzi già segnalati nell'ambito delle indagini per i ripetuti abbandoni di rifiuti tessili nelle periferie della città. Il veicolo seguito dalla pattuglia in Borghese si è recato nella zona del macrolotto di Iolo dove è raggiunto uno dei tanti pronto moda dell'area per prelevare sacchi di scarti tessili. Gli agenti hanno fatto irruzione nel magazzino proprio mentre venivano caricati i rifiuti individuando e denunciando così i responsabili. Due uomini di nazionalità marocchina uno dei quali già noto agli agenti per reati ambientali. Parliamo adesso di commercio in centro storico. Anche le grandi catene soffrono, hanno abbassato la sarecinesca e lasciato il cuore della città Casanova e Upim. Soffre il commercio in centro storico a Prato come altrove. Anche le grandi catene lasciano il cuore della città. Dopo nemmeno un anno dall'apertura ha infatti abbassato il bandone Casanova in via Mazzoni così come la Upim di via Garibaldi che era tornata in centro da pochi anni. Diverse saracinesche abbassate anche in altre vie del centro come via Muzzi, via Guasti, via del Serraglio e piazza Duomo. Questo è un dato che riguarda Prato ma che diciamo una tendenza che riguarda il commercio a dettaglio in tutta Italia per le caratteristiche anche il commercio a dettaglio ha in questo momento. Devo dire però che in quest'ultima fase noi abbiamo registrato non solo una grande mobilità, cioè una grande chiusura e riapertura anche all'interno del nostro centro storico e soprattutto in alcune zone del nostro centro storico che comunque è un dato positivo e dall'altra abbiamo rilevato il fatto soprattutto nell'ultima fase anche nella fase estiva che soprattutto in centro storico le attività commerciali si sono impegnate molto per collaborare con l'amministrazione e con le associazioni di categoria ma anche direttamente come attività commerciali per promuovere eventi, iniziative in grado di attrarre i consumatori proprio a vivere il centro. Sul tema abbiamo ascoltato la voce di alcuni storici commercianti del centro. Ci sono diverse cosine che potrebbero essere diciamo riviste anche solo per dare l'idea di un centro pulito, l'idea di un centro che vive e per attirare oltre che nuovi clienti anche potenziali ditte, negozi interessati ad aprire una nuova attività. Secondo me una delle mosse da fare immediatamente è attuare degli incentivi come venne fatto qualche anno fa in via del Serraio soprattutto per i giovani perché abbiamo bisogno di giovani in centro che magari con qualche incentivo può aprire una nuova attività ma soprattutto che può permettersi di pagare degli affitti molto alti. Una nuova allerta meteo di codice giallo per il rischio di forti temporali è stata diffusa dalla sala operativa unificata della protezione civile regionale per la giornata di domani sabato 3 agosto dalle 11 alle 18. L'alerta interesserà tutte le province della Toscana con la sola esclusione delle zone costiere. L'instabilità atmosferica con conseguente attenuazione dell'attuale alta pressione sarà dovuta a infiltrazione di aria fresca in quota. Passiamo adesso allo sport, al calcio Serie D ufficializzata la composizione dei gironi. Prato e Zenit sono state inserite insieme nel Girone D con le formazioni dell'Emilia Romagna. La Lega Nazionale di Lettanti ha ufficializzato i gironi di Serie D per la stagione 2024-2025. Le due formazioni della città di Prato, vale a dire la C. Prato e la Zenit Prato, sono state inserite nel Girone D insieme ad altre tre formazioni toscane, la Pistoiese, il Tutto Cuoio e il Tau Alto Pascio e le formazioni dell'Emilia Romagna, vale a dire Cittadella, Vismodena, Corticella, Fiorenzuola, Forlì, Imulese, Lentigione, Piacenza, Progresso, Ravenna, San Maurese, San Marino, Sasso Marconi e United Riccione. Un girone davvero tosto con Pistoiese, Ravenna, Fiorenzuola, Piacenza e Forlì che hanno costruito dei veri e propri squadroni e puntano la vittoria del campionato. Il campionato prenderà avvio il giorno domenica, 8 settembre. La Zenit Prato debutterà nel primo turno preliminare di Coppa Italia, il 25 agosto, all'Ardenza di Livorno contro la formazione labronica. Il Prato invece esordirà nel secondo turno, ospitando a lungo Bisenzio domenica, 1 settembre, il seravezza dell'ex tecnico Lucio Brando e dell'ex direttore sportivo Leonardo Calistri. Nella prossima settimana saranno diramati anche i calendari del campionato. Adesso è tutto pronto con il Prato che domenica prossima sarà di scena a Porretta Terme, nella prima amichevole stagionale contro la squadra dell'ASD Carrara, formazione di seconda categoria. Mentre la Zenit scenderà in campo mercoledì 7 agosto al campo sportivo Bruno Chiavacci in un'amichevole in famiglia. Prato e Zenit scaldano i motori. Adesso si fa veramente sul serio. Nel momento dell'agenda vediamo insieme gli appuntamenti in programma domani a Prato e dintorni. Domani sabato 3 agosto dalle 8 in piazza del Mercato Nuovo, Mercato Terra di Prato, mercato di filera corta locale e regionale con prodotti alimentari all'insegna della stagionalità e sostenibilità. Alle 15 corritrova al parco di Vallupai a Vaiano i segreti delle foreste di Iavello, escursione e trekking alla scoperta di Schignano e i suoi boschi. Alle 19 all'Alpe di Cavarzano a Vernio, Alpe tra note stelle, picnic nel Prato, concerto al tramonto e osservazione del cielo e delle stelle. Infine sabato 3 e domenica 4 agosto a partire dalle 20 alla Rocca di Carmignano torna all'appuntamento con Calici di stelle, due serate all'insegna del buon cibo, della degustazione dei vini di Carmignano, dell'intrattenimento e della musica. E con l'agenda è tutto, vi lasciamo adesso alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lama, restate poi con noi per le anticipazioni dei programmi della serata. L'informazione di TV Prato torna domani alle 13.45 con il Tg del Giorno. Grazie per averci seguito e arrivederci. Era un colpo perfetto, avevo curato ogni dettaglio, eppure sono qui. Mi definivano abile, scaltro, infallibile. E anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò. Potete stare tranquilli voi, con Pratopol. Non è un caso che siano professionisti della sicurezza. Tanzare ed altri insetti sono il tuo problema? La saetta è la soluzione. Nella tua abitazione, nella tua azienda, nella tua attività. Vivi tranquillo l'estate. Prova anche i nostri nuovi interventi bio ed eco-friendly. Dal 1971 sai che puoi fidarti di noi. La saetta disinfestazioni. La saetta disinfestazioni. Una buona serata a tutti. Un saluto dalla sala metro del Consorzio LAM. L'immagine che vedete alle mie spalle ci mostra l'andamento della pressione in quota. Possiamo osservare una ondulazione che interessa il Mediterraneo centrale, quindi anche la nostra penisola. Ondulazione associata all'ingresso anche di aria fresca, che porterà condizioni di instabilità atmosferica, associato anche a dei temporali. Andiamo a vedere infatti la previsione per la giornata di domani. Sabato in mattinata condizioni di variabilità con possibilità già a fine mattina di qualche fenomeno, qualche rovescio temporale sull'Appennino settentrionale e orientale. Fenomeni che poi tenderanno a interessare gran parte della regione nel corso del pomeriggio, andranno a interessare inizialmente la parte più orientale della regione e poi potranno sconfinare anche sulle zone costiere. Le temperature caleranno di qualche grado, massime contenute fra i 31 e i 34 gradi. Nella giornata di domenica il tempo tende a migliorare piuttosto rapidamente, cielo sereno e poco nuvoloso. In mattinata, nel pomeriggio, qualche nuvola in più, sviluppo di nuvolosità come uniforme sui rilievi settentrionali, ma anche su quelli meridionali, fra le colline metallifere. Il Monte Amiata non si esclude la possibilità di qualche locale fenomeno, qualche breve rovescio o temporale. Le temperature tornano ad aumentare, comprese fra i 34 e i 36 gradi. È tutto per oggi, grazie per l'attenzione e una buona serata.